Beni per 10 milioni di euro sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Reggio Calabria, due presenti appartenenti alle cosche gallico e bruzzise di Palmi e Seminara, arrestati nell'ambito dell'operazione Cosa Mia contro le medesime cosche del Regino. Quote sociali e patrimonio aziendale di tre società, la Lovena con sede a Milano per la costruzione di edifici residenziali, la Vare del Costruzioni a Palmi, la Diana Pallet a Treviglio in provincia di Bergamo per il commercio all'ingrosso di legname operazioni di facchinaggio di un'impresa individuale, la Outlet della Frutta a Mozzanica in provincia di Bergamo, oltre a polizze assicurative, conti correnti, libretti di deposito al portatore o nominativi. Il sequestro è stato disposto dal Tribunale di Reggio Calabria sezione misure di prevenzione su proposta del procuratore Federico Caffiero Derao, dell'aggiunto Michele Prestipino e del PM Sara Ombra nei confronti di Antonio Ciappina di 37 anni di Vibo Valencia e Matteo Grammuglia di 60 anni di Palmi. I provvedimenti eseguiti da personale dell'Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura di Reggio e del Commissariato di Palmi rappresentano l'evoluzione dell'indagine condotta dalla squadra mobile e dal commissariato sfociato nell'operazione del 2010 Cosa Mia contro la Cosca Gallico. L'operazione in particolare ha coinvolto i principali esponenti delle endrine dei Gallico Morgante Sgrosci Iitano di Palmi e di quelle contrapposte dei Bruzzise e Parrello, operanti nella frazione di Barriteri di Seminara, protagoniste di una sanguinosa faida tra il 2004 e il 2008, accusati a vario titolo di associazione mafiose, estorsione aggravata e altri delitti con particolare riferimento agli appalti legati all'ammodernamento dell'autostrada 3 tra gli svincoli di Gioia Tauro e Scilla. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, le cosche storcevano alle ditte appaltatrici il pagamento di una tangente del 3% sull'importo fissato nel capitolato d'appalto, la cosiddetta tassa ambientale, nonché il rifornimento di calcestruzzo da aziende vicine agli ambienti mafiosi. Ciappina in particolare, secondo l'accusa, si sarebbe dedicato alle attività estorsive e sarebbe stato uomo di fiducia del presunto boss Rocco Gallico. Gramuia invece è ritenuto un imprenditore di riferimento della cosca dei Perrello Bruzzise ed è accusato di aver ottenuto subappalti per i lavori sull'A3 con modalità mafiose. Grazie.